Carole Schutten, per i miei figli ho scelto il miglior pediatra, le migliori scuole, una sana alimentazione e intanto davo da bere loro acqua avvelenata. Signor Barco Gov. Quando escono del rubinetto gli interferenti endocrini non si sentono e non si vedono, ma nel mio corpo si sono trasformati in colite ulcerosa. Caspar Gerhard, è stato violato il nostro corpo, la nostra salute, la nostra falda. Ora manca la fiducia verso chi ci doveva proteggere. Giorgio Statakis, ho seminato e curato con amore e in modo naturale i miei ortaggi. Purtroppo l'acqua del mio posto è piena di fasce e ho avvelenato la mia famiglia. Tomislav Koric, 800.000 persone sono in pericolo. Come sarà il nostro futuro? Svenja Schulze, quando mangio e bevo penso sempre alla mia piccola che porto in grembo. Quali conseguenze avranno i fasce su di lei? Di dire in dire, viviamo dove l'acqua è piena di fasce. Il mio amico Giulio ha un tumore ai testicoli. Giorgia è ancora piccola e ha già una disfunzione alla tiroide. Ministro Sergio Costa, mia figlia soffre di ipotiroidismo e ha solo otto anni. Graziella Gavrilescu, questi sono i valori di mia figlia Martina. Chimo Tilicaine, l'acqua è il primo degli alimenti. La nostra contiene sostanze tossiche, i fasce, che poi ci ritroviamo nel piatto. Miguel Arias Canete, mia figlia di 10 anni, ha già problemi alla tiroide a causa degli interferenti endocrini che hanno contaminato il suo e il nostro sangue. Carol Dichburg, 159, 93, 85. Questi sono i valori dei fasce nel sangue dei miei tre figli, tutti già contaminati dalla gravidanza. Giuseppe Herrera, esistono più di 4.000 composti nei fasce, ma nelle analisi ne stanno cercando solo 12. Se le leggi non cambiano, andiamo verso l'autodistruzione. Jacob Ellemann Jensen, i fasce a catena corta sono i più pericolosi, perché più difficili da bloccare con i filtri. Sono i meno studiati e non sono ancora normati. Dennis Nauten, il mio pozzo contiene 3.690 nanogrammi di fasce per litro di acqua. C'è chi ne ha 5.000, 8.000, 13.000 e oltre. I fasce sono ormai nel mio sangue, negli ortaggi e negli animali. Questi fasce sono ormai arrivati anche al mare. Richard Brabeck, abbiamo la certezza di essere stati avvelenati. Abbiamo la consapevolezza che in passato le istituzioni ci hanno abbandonato. Teresa Riera Madurel, con la contaminazione da fasce abbiamo subito un'ingiusta condanna. La concentrazione di queste sostanze nell'acqua deve avere un solo valore, zero. Nicola Eulio, i fasce riducono dal 40% le attività del testosterone. Quale futuro per me e tutti i ragazzi che hanno queste sostanze nel sangue? Carolina Skog, i pifasce sono estremamente subdoli. Passano dalla placenta al feto e si trasmettono tramite l'allattamento al seno. I nostri figli sono già segnati dalla nascita. Carmè Nouvella, dalle mie parti siamo tutti contaminati perché chi doveva controllare l'ambiente non l'ha fatto. Nel mio sangue ho 80 nanogrammi di fasce. Sono avvelenata da questi interferenti endocrini. Questutis Naviccas, nelle nostre province i malati di diabete sono in aumento. Le morti per cardiopatie sono in aumento. I malati col morbo di Alzheimer sono in aumento. Anche i ragazzini hanno i valori di colesterolo fuori norma. Tutte queste patologie sono correlate ai fasce. Nemo Dimov, nella nostra città sono in considerevole aumento i casi di tumore al testicolo. Anche fra i bambini. I tumori al testicolo sono correlati alla presenza di pifas. Irena Maizena, credo nello sport come forma di prevenzione alla malattia. Per questo ho cresciuto i miei figli in una costante pratica sportiva. Ciò nonostante, oggi la loro salute è fortemente compromessa dai fasce. Erik Kovacic I miei figli potrebbero diventare sterili e io e mia moglie non avremmo la gioia di diventare nonni. Caro Miroslav Lajjak Ho 16 anni e io ho già epifas nel sangue. Sono più a rischio di malattie rispetto ai miei coetanei. Non è questo il futuro che vorremmo. Istvang Nagy Nostro figlio, 41 anni, non vive più da 20 anni nella zona contaminata. Eppure oggi si ritrova con 131,7 nanogrammi per millilitro di foa nel sangue, più altri valori fuori norma. Ciao Pedro Mates Fernandez I nostri figli pagano un prezzo altissimo a causa di scelte politiche irresponsabili e contrarie a tutte le leggi della natura. Elisabeth Köstinger Nel nostro territorio tantissime madri hanno sofferto e purtroppo soffrono di preeclampsia proprio in questa zona. Troppi bambini sono nati sotto peso. E troppi bambini sono morti nel grembo materno. Non è permesso che questo accada anche ad altre madri nell'Europa. Noi non vogliamo che succeda questo a nessuno. Sim Valmar Kiesler Basta con questo progetto suicida o non ci sarà più futuro. Usiamo il nostro talento di uomini intelligenti per costruire aziende a circuito chiuso, sistemi di produzione industriale e prodotti rispettosi dell'ambiente. Costa Scadis Abbiamo sempre bevuto l'acqua del rubinetto e abbiamo il PFAS nel sangue. Non c'è più tempo da perdere. Le chiediamo un gesto di forte coraggio. Vi chiediamo di adottare l'Ibity PFAS Zero. Il futuro di tutti è anche nelle vostre mani. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione.